Per il settore offensivo della prossima stagione inizia a muoversi qualcosa anche nel mercato in entrata. Il Palermo ha praticamente chiuso la trattativa per l'arrivo del classe 97 Edoardo Soleri. Si tratta di una punta acquisita in prestito con diritto di riscatto dal Padova. Nato calcisticamente nella Roma il nuovo attaccante ha già giocato nelle serie minori di altri campionati come quello spagnolo, olandese o portoghese. Gli ultimi tornei in Italia sono stati quelli disputati con le maglie di Padova e Monopoli. In serie C ha giocato 48 partite mettendo a segno 6 gol. E intanto il mirino dei Rosanero è finito anche su un attaccante esperto ovvero Giuseppe Fella. La trattativa sarebbe vicina alla chiusura. Il centravanti nell'ultima stagione era proprio nelle fila dell'Avellino che ha eliminato i Rosanero ai playoff. Fella ha concluso la propria avventura con gli Irpini ed è tornato alla casa madre che è la Salernitana. Nello scacchiere tattico di Giacomo Filippi potrebbe essere schierato da prima o da seconda punta. Novità dal punto di vista societario. Il Palermo ha comunicato che dopo le dimissioni di Toni di Piazza è stato nominato come nuovo consigliere di amministrazione Antonello Perricone. Presente negli anni nelle maggiori aziende italiane di comunicazione, trasporti e produzione industriale con particolare riguardo al mondo dei media a livello nazionale ed internazionale. E intanto prima della partenza per la Campania la squadra di Filippi prosegue con il lavoro atletico avviato negli ultimi giorni dopo il raduno del Barbera fra lo Stadio delle Palme, il Parco della Favorita ed il campo del Tennis Club Palermo 2.